Un nuovo incontro musicale aggiungerei qui alla Cremeria al Duomo a Lucera e interamente dedicato alla musica di Fabrizio De Andrè e siamo in compagnia di Andrea Martina, attore, sceneggiatore teatrale, scrittore, che si occuperà questa sera di un reading letterario dedicato a un disco particolare dalla mia riva di Fabrizio De Andrè e accompagnato dalla chitarra, voce e suono, di Giuseppe Fiorante. Com'è nato questo incontro? Siete giovanissimi tra Andrea e Giuseppe e com'è nata l'idea di creare questo spettacolo dedicato a questo disco così particolare di Fabrizio De Andrè? Sì, di fatti la collaborazione con Giuseppe è una collaborazione che va avanti da cinque anni, siamo già a tre collaborazioni relative ai libri e otto spettacoli da tre li fatti insieme, quindi comunque è un modo di lavorare che ci piace, c'è feeling, quindi stiamo portando avanti tutte le idee che ci vengono e lavoriamo molto bene insieme. L'idea di fare un lavoro su De Andrè parte semplicemente dall'offrire una visione diversa che è quella dei cantautori, non solo ed esclusivamente seguendo le canzoni ma raccontando quello che è il percorso artistico, che è un po' quello che fa questo libro. Cerca di prendere De Andrè come punto di partenza ma di mettere in luce quello che è il contatto tra la musica mediterranea e i dialetti italiani, infatti non parliamo solo di De Andrè ma parliamo anche di autori come a Domenico Modugno, a Pino Daniele e se vogliamo quindi questo è un percorso che stiamo portando avanti da tanto tempo, D'Ameriva in questo caso è una tappa di questo percorso che appunto dura già da parecchio tempo e sta dando tante belle soddisfazioni. D'Ameriva, quindi dalla mia riva in dialetto genovese nel 1984 Fabrizio De Andrè ha sentito quasi l'esigenza di incidere questo disco interamente in lingua genovese. Secondo te Giuseppe, ecco, è stata un'esigenza o un'ispirazione di De Andrè? Beh, secondo me è stata entrambe le cose. Un'ispirazione perché comunque il fascino del Mediterraneo, lo sappiamo, è vastissimo ed è stata un'esigenza perché comunque essendo lui un cantautore ha voluto sperimentare in questa nuova lingua, anche se il dialetto possiamo dire che è la nostra lingua di appartenenza prima anche dell'italiano. Quindi ha voluto trovare questa combinazione tra i suoni del dialetto di Genova del 1600 e le sonorità mediterranee proposte da Moro Pagani con l'utilizzo di strumenti tipici del Mediterraneo, di diverse parti del Mediterraneo, quali i bozuchi, lo shanai, eccetera. E quindi ha creato quest'opera che, a mio avviso, è una delle più belle opere della musica italiana. Ecco, Andrea, concentrandoci sulle novità di questo disco. Allora, le novità di questo disco sono innanzitutto mettere al centro il tema del Mediterraneo che praticamente è visto ormai non più come il mare il luogo d'incontro delle più importanti civiltà dell'uomo ma è vista quasi come una periferia geografica. In questo caso De Andrè lo porta al centro del suo lavoro e poi recuperare strumenti del passato è stata paradossalmente l'innovazione. Adesso si registra tutto quanto in digitale, tutto quanto attraverso il computer. De Andrè e Pagani nel 1984 con una visione molto larga prendono strumenti della tradizione e li portano all'interno della loro musica, la musica pop italiana andando a catturare quella che è l'essenza vera del suono quindi quanto più genuino e sincero possibile. E in ultima analisi c'è anche il fatto di cantare in dialetto cioè De Andrè, che è diventato nel 1984 il cantautore italiano più importante decide di rimettersi in gioco, sperimentare, non fare canzoni come Bocca di Rosa, Piede il Campo quelle per cui l'hanno sempre conosciuto e l'hanno reso famoso ma mettersi in gioco e cantare in genovese perché comunque il genovese aveva una musicalità che l'italiano non riusciva a dargli. Queste tre sono comunque le novità secondo me che hanno accompagnato questo lavoro e che permettono adesso a 34 anni di distanza a vederlo comunque come molto molto attuale per come stanno andando le cose in campo artistico e culturale in Italia. Ed ora una domanda a Giuseppe Un disco interamente in lingua genovese come è stato considerato dall'utenza, dai fan di Fabrizio De Andrè? Beh, quando è stato proposto è sembrato quasi una sfida molto grande poi invece quando è uscito fuori, che i più li hanno sentito è diventato un punto di riferimento tant'è che ha dato spunto a tutta quella musica che noi chiamiamo World Music a cui Paul Simon e altri vari artisti e quindi è stato un punto di riferimento molto importante al quale non possiamo fare a meno. Andrea Martina non si è occupato solo di Fabrizio De Andrè c'è una sorta di amore, di vocazione per altri cantautori italiani importanti. Sì, prima di tutto Domenico Modugno che se vogliamo è alla radice della collaborazione con Giuseppe tramite uno spettacolo teatrale a Mata Terra Mia nato nell'estate del 2016 che per primo con lo spettacolo ci ha fatto capire qual è l'importanza non solo del dialetto nella musica italiana ma delle nostre radici. Diciamo che è stato Modugno un'aprivista che ci ha innanzitutto fatto capire che il nostro modo di fare arte poteva andare anche al di là dei libri della musica e poteva unirsi in quella cosa meravigliosa che è il teatro e successivamente andando anche ad analizzare quelle che sono state le canzoni di Modugno e come fare a raccontarlo alle persone quello spettacolo lì ci ha insegnato proprio un metodo di lavorare con i cantautori ovvero la ricerca, il percorso artistico capire veramente quello che era lo stato d'animo che portava alla scrittura di una canzone alla stessura di un disco quindi noi vediamo Domenico Modugno fondamentalmente come il nostro faro il nostro puntore di riferimento e ci piace dire che tutti gli altri cantautori che abbiamo conosciuto dopo quell'esperienza sono i nostri porti sicuri nei nostri viaggi in barca dove in un certo senso arrivare e cercare di assorbire tutto quello che riescono a darci. Giuseppe Fiorante, Andrea Martina hanno altri progetti sempre in questo campo in questo ambito? Cosa bolle in pentola? Beh, di bollire in pentola abbiamo uno spettacolo che dobbiamo scrivere su Pino Daniele e poi oggi prima di arrivare qui a Lucera sono state buttate delle idee che però vi invito a seguirci e per scoprirle più in là ovviamente. E con grande piacere vi seguiremo. Grazie. Grazie. Grazie mille. E siamo con Pippo Grasso tra gli organizzatori degli eventi della cremeria al Duomo, a Lucera beh, si stanno susseguendo davvero degli incontri importanti dal punto di vista culturale e questa sera musicale una serata dedicata interamente alla musica di Fabrizio De Andrè. Sì, musica di Fabrizio De Andrè che è uno degli autori, cantatori che non abbiamo fino a questo momento come si dice preso in grande considerazione perché abbiamo fatto altre cose e questa volta si è prospettata la possibilità di dedicare una sera da lui e l'abbiamo colta subito a occasione perché ci mancava diciamo nel novero dei vari autori che abbiamo presentato dopo Lucio Battisti, Lucio D'Al anche De Gregorio che abbiamo fatto in estate De Andrè, insomma, meritava di avere anche lui uno spazio particolare anche perché non si tratta e non si parla solo di musica ma parliamo di un discorso anche abbastanza importante come contenuto infatti la serata è sul linguaggio mediterraneo di De Andrè, riferito in particolare a un suo lavoro che è Creza Remà che fu un disco che uscì nell'84 tutto in genovese e ha a che vedere col mediterraneo quindi è una serata letteraria a tutti gli effetti possiamo dire nonostante ci sia anche la musica ma è letteraria a tutti gli effetti come riesci a trovare ecco tutti questi validissimi autori scrittori come sei rientrato in questa rete di informazione che dà cultura e dà lustro alla nostra cittadina? hai usato la parola giusta rete e nello stesso tempo trovando il modo giusto di usare la rete perché anche lo stesso Facebook è per me uno strumento fondamentale ma non per, come si dice, a fine a se stesso ma perché se lo si usa in maniera adatta e proficua è uno strumento di grandissima importanza e di grande valore molti autori io riesco a contattarli direttamente senza bisogno di avere contatti tramite agenti con un contatto diretto perché ripeto il social quando ha una sua funzione molto importante senza avere finalità un po' distorte è veramente un grande valore una grande utilità secondo me magari all'inizio è stato un pochettino difficile adesso è tutto liscio una nostra pagina poi ci sono, ripeto Facebook ha questo suo vantaggio questa peculiarità che ovviamente nei momenti in cui tu entri come un discorso di passione per i libri o qualsiasi altra passione si crea automaticamente una sorta di rete con tutti coloro che condividono quella passione quindi a partire dagli autori a partire da coloro che fruiscono i lettori e quindi di conseguenza viene tutto da sé a un certo punto addirittura abbiamo molto spesso un eccesso di richieste di quello che dovremmo fare rispetto a quello che sono i giorni adesso andiamo avanti con una venda a settimana in poche parole voi lo avete potuto notare quindi la risposta dei cittadini c'è e si avverte? speriamo che ci possa essere una risposta diciamo abbastanza continua abbiamo creato questa sorta di appuntamento fisso proprio perché i nostri amici i lucerini anche di fuori, di foggia possano riuscire a identificare in questo particolare momento soprattutto il venerdì ma non solo ma il venerdì come un giorno di riferimento per fare tutte queste iniziative questa ripeto ci siamo fermati un attimino nel periodo delle vacanze però poi abbiamo ripreso la settimana scorsa con Gianluca Daluiso De Andrè e poi partiremo dal venerdì prossimo quest'anno abbiamo pensato di fare un ciclo più o meno una sorta di rassegna che si è andata come si dice a mettere in fila dedicando le serate alle donne cioè alle donne scrittrici le abbiamo chiamate donne forti in cremeria perché secondo me le donne hanno un qualche cosa in più dal punto di vista culturale e letterario quando scrivono secondo me questa è la mia convinzione l'ho detta la sto dicendo ripetutamente perché ci credo in questa cosa e quindi le donne hanno un qualcosa in più un valore in più che possono trasmettere quindi partiamo dalla settimana prossima con Francesca Melandri che viene a presentare Sangue Giusto è un libro che ha a che vedere con il discorso dell'interrazialità un argomento di grande attualità poi avremo Lisa Gisburg che è la nipote di Natalia Gisburg lei vive a Parigi ma verrà a presentare anche lei un libro di racconti e poi avremo ancora altre autrici tra le quali Federica Bosco e Chiara Barzini insomma abbiamo cercato di fare questa cosa un po' a tema quest'anno perché ripeto ci attrae molto il discorso delle donne grazie Pippo Grass grazie a voi grazie grazie a voi grazie a voi